Benvenuti a tutti in questo nuovo video vi mostrerò le macchine che non sono commercializzate in Italia questa sarà una serie di video in cui parleremo appunto di queste macchine per prima cosa vedete alle mie spalle iniziamo con la Fiat Kronos la Fiat Kronos è prodotta a Cordoba in Argentina per il mercato sudamericano quindi Brasile, Argentina, Cile e via dicendo sostituisce la Fiat Linea e riprende le linee della Fiat Argo che è l'utilitaria prodotta in Brasile che era l'alternativa alla appunto italiana che lì non è prodotta è una berlina a tre volumi stile Fiat Tipo che è commercializzata qua in Italia e in alcuni dettagli notiamo molte somiglianze sostituisce la Gran Siena che è una macchina nata nel 2012 che prendeva le linee dalla appunto vecchia edizione e questa macchina qui ha un bel po' di contenuti tecnologici superiori comunque allo standard brasiliano come tipo di accessori è persino possibile avere sulla versione accessoriata il Keyless Entry Go che è praticamente un sistema che ci permette di aprire la macchina avendo le chiavi in tasca e di farla partire con un bottone cosa che su Fiat forse sulla Spyder e basta esiste qua in Italia la macchina è lunga 4,36 metri ha l'altezza di 1,5 e una larghezza di 1,7 è stata disegnata dal centro stile della Fiat alla Tam e viene veramente facile capire che la base di partenza sia stata l'europea Fiat tipo Barragea Barra Dodge Neon nel posteriore c'è una curiosità rispetto alle macchine italiane in Brasile la Fiat usa la scritta Fiat enorme e non ha il marchio rotondo come qua in Italia gli interni di questa macchina sono gli stessi della sua cuginetta la Argo e ha la strumentazione con lo schermo TFT da 3,5 che è molto bello lo schermo che ha questa macchina molto paragonabile a quello delle Audi ad esempio ha un quadro bello grande dove c'è il contagini e ha il Uconnect da 7 pollici che conosciamo già perché su quasi tutte le versioni di tipo ottergine la quattro porte come motori su questa macchina troviamo un Firefly quindi una nuova generazione 1.3 che è capace di erogare 101 cavalli se la usiamo benzina, se la usiamo etanolo perché in Brasile c'è la doppia possibilità 109 cavalli con una coppia di 134 Nm a benzina e 139 Nm ad etanolo poi abbiamo un altro motore che è il più evoluto 1.8 quattro cilindri ETHQ EVO a 16 valvole che ha 135 cavalli a benzina e 139 ad etanolo e una coppia massima di 184 Nm a benzina 189 Nm a etanolo quest'ultimo motore è accoppiato a un cambio a 5 rapporti sequenziale mentre l'automatico è a 6 rapporti di questa macchina e ovviamente la 1.8 è la versione più accessoriata e sportiva questa macchina ha delle rivali soprattutto la Volkswagen Virtus che vedremo in un prossimo video la Renault Logan che non è altro che la Dacia con il microfono e la Ford K-Sedan che sono altre tre macchine che andremo a vedere che non sono importate in Italia i prezzi più o meno si aggirano dai 12.000 euro della base 11.574 per l'esattezza ai 14.469 della 1.800 automatica Precision quindi con tutto di serie i fari come avete già visto sono led sia davanti che dietro è una macchina che secondo me non sfigurerebbe neanche qua da noi l'unica cosa magari il dubbio è sulla berlina visto che in Italia non va anche come tipo di macchina vediamo anche infatti la tipo che è più diffusa quella a 5 porte rispetto alla 4 o la station wagon come macchina secondo me se Fiat riuscisse a importarla in Europa venderebbe parecchio l'unico dubbio che mi rimane e che mi lascia sempre perplesso perché non sostituiscano la Fiat Punto con un argo magari rivisitata per lo stile e il gusto di noi italiani perché comunque la Punto è una macchina storica e da più di vent'anni che c'è in commercio è come eliminare dal listino la Panda del tutto questo è tutto se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like iscrivetevi per non perdere i miei prossimi nuovi video e fatemeli sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa macchina vi piacerebbe che fosse importata in Italia al prossimo video ciao 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 ciao